Buongiorno, come stai? Un altro Natale è arrivato, purtroppo sembra che questa pandemia non ci voglia lasciare in pace ma comunque mi piace pensare che questo periodo finirà e che sia arrivato per insegnarci qualcosa nel mio bel paesino quest'anno è tutto un po' triste, non so per quale motivo rispetto agli anni scorsi il Natale non si sente proprio però mi piace pensare che la magia del Natale esiste, quindi Natale rimane comunque la mia festa preferita mi mette di buon umore e mi piace sentirmi apprezzare di più le persone che ho intorno e magari dimostrare di più il mio affetto quindi io adesso non so esattamente in che periodo tu ti trovi della tua vita, se è bello o brutto però mi sento comunque, voglio dirti una cosa, cioè qualsiasi esso sia cerca l'amore, pratica l'amore in ogni sua forma verso le persone che conosci e verso gli estrani perché in fondo credo sia questa la magia del Natale e non può esserci qualcosa di brutto nell'amore detto ciò ti auguro un felice Natale a te e a tutta la tua famiglia ti abbraccio forte da parte mia e da parte di tutto lo staff della Discovering Brasile a presto